Io sono Francesca Iazzetta, vengo da San Giovanni Antetuccio, scrivo da sempre, solo che le scrivevo per me e solo per me. Poi un giorno parlando con un'amica gli ho fatto leggere qualcosa di mio e allora lei mi ha incitata e spronata ad andare avanti in questo cammino e oggi, vabbè, sono quattro di voi. Allora, io ho scelto l'amico. Che cos'è? Che ti aiuta anche se non c'è. Chi è che piange e gioisce con te? E quel qualcuno che è pronto a gridare, ecco, ti sono vicino. Non importa se è mattino o notte inoltreata, una parola o un abbraccio, adesso può trovare. Spesso ti può consigliare, ma attenta, non è un po' pazzo. Un'anima, ah, non certo, ha usato. Aspetta silente ogni tuo gesto. È sempre lì con il cuore aperto. A volte frainteso, ma il cuore sincero. Non va deluso o messo in disparte. La vita, si sa, può donartene a tanti. Spesso sinceri o interessati, ma l'anima tua lo sa, sei pieno di sincerità. T'avvorta un compresso, ti allunga una mano. Non farla aspettare, ricorda. Anche questo è un modo d'amare.